Buongiorno a tutti, buon lunedì da Sea Florence. Questa settimana parliamo di un bellissimo dipinto conservato nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti a Firenze intitolato Le conseguenze della guerra e realizzato intorno al 1637-1638 dal grande pittore tedesco Peter Paul Rubens. L'artista, nato in Vesfalia nel 1577, aveva ricevuto un'educazione di tipo umanistico e aveva trascorso otto anni in Italia, vivendo tra Venezia, Mantua e Roma e qui si era confrontato con i capolavori del Rinascimento, da cui aveva tratto una grande lezione. La tela, con le conseguenze della guerra, fu eseguita poco prima della sua morte e raffigura i pensieri e le riflessioni maturate dal pittore nel corso della Guerra dei Trent'anni, il lungo conflitto scoppiato tra cattolici e protestanti e in cui erano coinvolti quasi tutti i paesi europei dell'epoca. Senza usare riferimenti precisi ma con l'intenzione di mostrare gli effetti distruttivi della guerra, l'artista ricorse simbolicamente agli dei dell'Olimpo, disposti in una scena molto drammatica. A sinistra, la donna con la corona in testa e le braccia alzate verso il cielo è la personificazione dell'Europa. Dietro di lei si scorge una porta, quella del Tempio di Giano, che secondo la leggenda veniva lasciata aperta in tempo di guerra per permettere al Dio di unirsi ai suoi soldati. Al centro si vede Venere, Dea dell'Amore, che tenta di trattenere a sé Marte, suo amante e Dio della guerra, pronto alla battaglia con lo scudo e la spada in mano. A destra e in alto, di fronte a Marte, compare la discordia, che ha le forme di un uomo dal volto quasi trasfigurato e che regge una torcia in mano e che travolge con la sua furia le tre e figure distese a terra che rappresentano le arti, come la musica, la donna che regge il liuto, e l'architettura, l'uomo con il compasso, e la carità rappresentata dalla donna che stringe a sé il suo bambino. Da notare anche che il piede di Marte calpesta dei libri, alludendo così al fatto che la guerra, oltre a causare morte e distruzione, annienta anche la cultura.